Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Addio servizio di igiene e salute pubblica in piazza Nardone. I proprietari dello storico edificio hanno da tempo avvisato la direzione sanitaria di voler tornare in possesso dell'immobile e dunque è necessaria l'individuazione di un altro spazio di accoglienza. Nei giorni scorsi si è anche accennato ad un possibile spostamento a cento buchi, ma il sindaco di Sametto Spazzafumo rassicura. Stiamo facendo delle valutazioni anche con il dottor Angelini per verificare quali possono essere le possibili strutture atte ad accettare gli uffici interessati. Certo, non è una procedura corta, però cercheremo di tenere tutto qui sulla città. Guarda, onestamente parlando con l'Aste mi dicevano che erano già arrivati gli avvisi per poter andare via, però a livello ufficiale mi sembra aver capito che non ci sia ancora nulla proprio di definitivo. Quindi naturalmente non avremo tanto tempo, ma ci sarà il tempo giusto per poter arrivare a una soluzione diciamo concreta per l'Aste. Dall'opposizione di centrosinistra emergono intanto delle proposte su dove ubicare il nuovo servizio di igiene, tra cui anche la possibilità di sfruttare gli spazi vuoti dell'attuale ospedale o del Palariviera. Allora, ne penso che potrebbe essere l'ennesima perdita per questa città. Già il nostro ospedale sta subendo numerosi attacchi, se perdiamo anche il Dipartimento di Prevenzione sinceramente mi sembra una cosa grave. Per cui tutte le forze politiche e chiaramente per primo il Sindaco Spazzafumo deve trovare una situazione alternativa al fatto che il Dipartimento si deve spostare. Io sinceramente avevo un paio di idee, sicuramente c'è anche l'ospedale che è tutta la zona, il corpo F è vuoto perché comunque la direzione sanitaria si è spostata ad Ascoli quindi potrebbe essere utilizzato. Lì forse ci sono dei problemi per il parcheggio, però è una zona sempre centrale. In futuro forse avremo la casa e l'ospedale di comunità quindi alcuni servizi verrebbero anche spostati a Porto d'Ascoli e potrebbe essere una soluzione. Io sinceramente anche stamattina ho parlato con il Sindaco di altri motivi e gli avrei suggerito anche di pensare al Palariviera alla zona est del Palariviera che attualmente è sfitta.